i ragazzi stanno bene negrita all'interno dell'epi hour di radio bruno ciao ragazzi ciao a tutti estate benissimo happy hour vuol dire che si vede? sì c'è anche quello abbiamo accolti con un buon lambrusco questo è vero tappato e della buonissima acqua invece stappata fresca che dà il giusto la al nostro inizio comunque buona domenica buona domenica voi benvenuti grazie in realtà ci siamo visti poco tempo fa a sanremo abbiamo avuto la possibilità insomma di chiacchierare sanremo ormai è finito tiriamo un po di somme ha vinto no vabbè è stata una bella esperienza ci siete tornati dopo 16 anni con un brano veramente bellissimo che abbiamo appena ascoltato grazie sì no ci siamo tornati volentieri perché quest'anno è il 25 annale di questa band quindi devo dire che ci ha fatto piacere andare diciamo in una festa grande per celebrare anche questo compleanno diciamo così assolutamente e prima eravamo in centro a carpi avete fatto una passeggiata abbiamo fatto una passeggiata qui a carpi e siamo passati anche davanti al palasport dove nel 94 se non erro paolo belli organizzò rock no war in un tendone e non sono rivisto proprio così e sono passati 25 anni perché era il primo anno della nostra carriera diciamo discografica immagino che tante sono le immagini che a voi passano davanti quando girate da qualche parte giusta si chiama di solito il touring club mattina per capire cosa è cambiato in italia tanti viaggi e tanti spostamenti quelli che caratterizzano sicuramente anche la vostra band abbiamo visto il video dei ragazzi stanno bene dove è stato girato questo video va a due anni quel video dove dove siamo noi cioè dove facciamo il playback siamo sul confine proprio sul confine cioè a due metri dalla svizzera eravamo in italia ma due metri dalla svizzera sopra lugano quindi è un panorama montano molto molto bello da contrapporre poi al resto del clip dove ci sono i quattro ragazzi che sono i protagonisti del video quella in indonesia girati più o meno gli stessi giorni noi giravamo in italia svizzera loro in indonesia poi abbiamo messo assieme le immagini nonostante ti confesso che ci sono stati molti disagi per fare quel video perché noi abbiamo avuto il giorno in cui dovevamo girare abbiamo avuto neve quindi abbiamo dovuto rimandare la troupe che è andata in indonesia a fare queste riprese credo quattro cinque giorni hanno avuto temporali costantemente un paio di discorsi di terremoti è un ciclone quindi diciamo che è stato un videoclip molto tormentato però direi che il risultato invece è bello è stato sicuramente molto molto piacevole e parlando proprio del vostro della vostra raccolta che è uscita l'8 di febbraio e che sta andando anche molto bene quindi complimenti per questa raccolta dove ci sono 32 brani e tre inediti come mai avete scelto i ragazzi stanno bene di questi brani per presentare a sanremo ma ci è sembrato quello ci sembrava quello più adatto dei tre inediti quello più adatto nato sin da subito con un arrangiamento di archi e quindi abbiamo detto a sanremo un'orchestra come quella la cosa migliore andare con un pezzo che ha di base una natura comunque anche orchestrale e poi ci interessava anche promuovere quel tipo di messaggio il sound ci sembrava molto adatto per essere rappresentato all'ariston e la serata dei duetti ha visto un vostro e grazissimo amico io non c'ero che ormai insomma collabora con voi da tantissimo tempo avete fatto tante cose abbiamo fatto tante cose con Roy anche lui ha arrangiato anche un intero album nostro la parte legata ai fiati insomma che era il dorado in l'album di un po di anni fa e che comprendeva che rumore fa la felicità radio conga gioia infinita e quindi gioia infinita tra l'altro Roy è coautore del pezzo e poi avevamo dei rouge ruggeri e quindi diciamo un altro amico di rocker sì rocker ma anche di capigliatura quindi abbiamo avuto questi due compagni di viaggio piacevolissimi peraltro sia alle prove che durante il venerdì di sanremo e ci hanno come dire omaggiato perché comunque sai in alcuni sanremi alcuni anni fa insomma si faceva il venerdì si faceva la cover si coverizzava un pezzo di qualcun altro invece da gestione baglioni ha fatto sì che si facesse una cover di se stessi quindi in qualche modo io devo ringraziare pubblicamente sia Roy Paci che Enrico Ruggeri perché comunque non è da tutti andare a omaggiare una band che suona se stessa quindi hanno fatto un omaggio a Negrita assolutamente molte grazie ragazzi abbiamo parlato di Roy Paci e ascoltiamo allora gioia infinita in Negrita continua la nostra chiacchiera di questa domenica pomeriggio allora prima vi ho chiesto fuori onda perché sono un po' emozionata io so che avete un rito propiziatorio che fate no prima di un grosso concerto comunque di un di un evento ed è un abbraccio vero tra di voi tutti contro tutti tutti insieme tutti con tutti non è tipo sandwich no non è un'orcia diciamo di abbraccio sono 30 abbraccio singoli quindi la gente deve aspettare qualche minuto in più perché abbiamo sempre da fare questo rito quindi adesso sapete questa cosa ragazzi allora ve l'ho chiesto anche io e grazie abbiamo fatto anche con te prima di venire in trasmesso vi ringrazio questo è stato molto piacevole ma il potere dell'abbraccio è una cosa si me la racconti lo si sente quando ci si abbraccia se l'abbraccio è reale sincero e spontaneo è vero e se arriva anche dopo magari una giornata in cui c'è stata una litigata qualche tensione quindi litigate anche voi ovvio insomma c'è davvero in pochi secondi la possibilità di rimettere a posto un sacco di cose è uno scambio di energie un contatto umano una vibrazione insomma che vi scambiate beh è vero però io l'ho sentita eh se devo essere honesta perché avete abbracciato non è stato no non è finto no è stato proprio un abbraccio di cuore e ormai siamo esperti e specialisti ah sì per chi volesse essere abbracciato telefonata al 34849563 risponde Drigo però perfetto c'è un ascoltatore Luca che invece scrive che lui per lavoro viaggia molto e quindi vi ascolta vi ascolta tantissimo durante i suoi spostamenti e voleva sapere voi invece guarda anche noi per lavoro viaggiamo è vero e voi che cosa ascoltate? hai una sua curiosità allora intanto i giri del motore per capire quando scalare al momento giusto per non consumare troppo idrocarburante perché è uno spreco è vero di qualcosa fermami diciamo che Pau ha la sua attività collaterale gli piace tantissimo mettere dischi lo fa lo fa continuamente anche DJ voleva dire mettere dischi posso mettere anche sullo scaffale è vero no? sì magari mi era spuggita questa cosa del DJ set perché lui ha proprio questa abitudine se ci fermiamo in studio a cena mentre Cesare cucina Pau comincia a mettere dei pezzi questo per noi è sempre utile perché siamo in tanti tante teste pensanti nel momento in cui componiamo è fondamentale avere diciamo che ognuno abbia i suoi gusti questo è giusto ma avere comunque un panorama che sia in qualche modo ampio ma anche circoscritto aiuta tutti a capire in che direzione stiamo andando quando cominciamo a comporre quindi ascoltare musica insieme ci dà la possibilità di discutere questo pezzo mi piace andiamo in questa direzione quindi per noi ascoltare musica durante il viaggio durante i momenti in cui non facciamo la nostra è fondamentale per comunicare quelli che sono appunto i nostri ascolti del momento scoprire nuove cose quindi ascoltiamo davvero di tutti piace a Pau ma piace a tutti ad esempio a Sanremo io mi ero portato uno uno di questi bussolotti piccolini che vanno col bluetooth quando a fine serata stanchi morti perché passavamo le giornate a fare interviste poi c'era questo questo scossone sul palco e poi stemperavamo nel ristorante nel ristorante dell'hotel e ci piaceva mettere le canzoni c'erano i boom badass c'erano i exotago eravamo assieme e quindi condizionavamo anche i loro ascolti ogni sera era un party con appunto dei piccoli 10 set fate con questo ma bello prossimo anno o comunque prossime esibizioni voglio venire anch'io ce l'hai invitata prima si abbracci poi entri e va bene lo sono fatto i camerieri del ristorante tutti giovanissimi erano galvanizzati divertentissimi stupirla saliva sui tavoli ballava sui tavoli faceva il cubista ma non l'avete ripreso sì il tavolista faceva abbiamo ripreso ma non diffuso eh ho visto perché io ho controllato il vostro canale social non ho visto queste cose peccato mi mancano magari fuori onda anche questo potrebbe essere adesso comincio a zampettare come una scimmia sopra il vostro tavolo quindi della missione onda eonello mi dispiace i ragazzi stanno bene best 1994 2019 32 brani è stato difficile inserire dei brani i vostri brani se l'hai smazzata a me sì è stato difficile per alcuni brani no perché alcuni brani si autocandidano facilmente non puoi non metterli però c'è tutta una categoria di canzoni che se la sono giocata con con brani che magari i fan più fedeli avrebbero voluto vedere nella playlist infatti abbiamo fatto una specie di contest su Instagram chiedendo prima che uscisse sai quanti li hanno beccati? zero perché tutti hanno chiesto delle robe impossibili da inserire nel dovremmo fare un best ci vuole un terzo cd contenente un best beside potrebbe essere l'idea perché i fan sfogatati ovviamente non ne possono più di sentire i pezzi che sono state hit e quindi dovremmo fare un best beside lo faremo prima il 2019 è un viaggio per voi in questo anno sarete sempre praticamente impegnati saremo ovunque sì abbiamo voglia proprio di celebrare i 25 anni in maniera adeguata insomma e come lo farete? ma abbiamo intenzione di fare tre tranche di concerti quindi avremo la primavera l'estate l'autunno con tre modi di interpretare la musica completamente diversi no abbastanza diversi non completamente faremo a maggio delle date le pubblicheremo credo prossima settimana prossimi giorni ci fate sudare per adesso suggerisco chi avesse voglia di vedere quelle che sono state già fissate sono definitive sulla nostra pagina di spotify le può trovare già da ieri mi sembra quindi faremo un maggio teatrale intimo sì intimo seduti con un atteggiamento semiacustico diciamo così come abbiamo fatto un po' di anni fa un bellissimo c'è un'energia particolare negli acustici che viene contenuta un po' fino all'ultimo ma alla fine esplode esplode l'estate faremo un po' più di date e faremo tutto lo stivale insomma con un'invenzione nuova nel senso partiremo con l'atteggiamento teatrale all'inizio del concerto e poi piano piano diventerà elettrico quindi diciamo si entrerà in questi teatri romani all'aperto oppure bellissime piazze storie eleganti e si uscirà su lati fradici come degli operai che lavorano lungo l'autostrada in autunno invece la terza diciamo la terza tranche sarà ancora diversa ma non non la promuoviamo ancora perché da qui all'autunno succederà un qualcosa che non ti posso dire Fabiana adesso che condizionerà quella parte di tour ok stiamo preparando la collezione autunno in verde si adesso la vedrete su postal market allora mentre io vi vedo sfilare fuori onda faccio sentire i nostri ascoltatori non torneranno più in egrita torneremo comunque ma certo su Radio Bruno ciao non torneranno più in egrita Barbara scrive che bella gente che belle parole ma soprattutto che voci sexy che avete wow Barbie bravissimi un bacione a proposito di fan un regalo particolare che una fan vi ha fatto non si può dire adesso quando mi fanno queste domande onestamente non mi ricordo mai cose queste cose no faccio un po' fatica prima dice reggiseni eh quelli sono inflazionati avete aperto i negozi a me una volta hanno regalato una sedia una sedia di legno veramente tutta dipinta che poi dopo insieme alla sedia c'era anche un quadretto di un nudo posato artistico e presumo che fosse quella che ha regalato la sedia non ha indagato non c'erano indirizzi niente è arrivato questo questo pacco questo enorme pacco una sedia a me sono venute in mente un paio di cose e devo dire che in questo forse dobbiamo ringraziare anche i social che ti danno la possibilità di in qualche modo comunicare o raggiungere anche per pochi minuti persone che non conosci le quali appunto seguendoti riescono a capire anche qual è la tua personalità la tua sensibilità l'anno scorso ho ricevuto intanto un profumo che è difficile a scegliersi a zeccarlo veramente perfetto per me davvero mi ha colpito molto questa cosa mi piace molto è sicuro che è perfetto è un'altra cosa straordinaria mi è successa pochi giorni fa erano un negozio di strumenti di Arezzo ho visto una bellissima chitarra della Hoffner che è la marca del basso di Paul McCartney per capirsi è una marca una marca leggendaria antica una chitarra bella ho chiesto ma in vendita no in riparazione vuoi che chiedo al proprietario se la vuol vendere boh si prova prova sapevo che era la sua quindi ma non dire che è la mia che la voglio io perché ultimamente quando manifesto interesse per una chitarra va a finire che il negoziante non me la vuole più vendere quindi non dire che la voglio io per favore dopo sono tornato in questo negozio per comprare delle corde e il negoziante mi ha detto ma te non leggi i miei whatsapp perché cosa mi dicevi ho parlato con il proprietario mi ha chiesto ma chi è che vuole la mia chitarra Drigo regalagliela mi ha regalato una chitarra degli anni 60 straordinaria come sentiamo sto tipo veramente è una cosa bellissima uè tipo che vogliono a casa dal mare è soprattutto un gesto straordinario veramente vedo i tuoi occhi che parlano quindi l'emozione allora ragazzi tra poco sarete a Bologna giusto per il film a Bologna alla Mondadori a fare in store firma copia altrimenti detto sì quindi questa prima parte per voi è dedicata a questo agli in store giusto agli store che sono una cosa all'inizio lo prendevamo come una cosa antipatica nel senso sì andare in un negozio a fare a firmare dei cd ci sembrava una cosa un po' sminuente poi in realtà quando abbiamo cominciato qualche anno fa a farli ci siamo resi conto che abbiamo sempre un moderatore molto spesso una persona che conosciamo o che addirittura chiamiamo noi quindi c'è modo di fare un'intervista un po' svincolata da un microfono radiofonico da un giornale e quindi molto tranquilla easy e in questo modo riusciamo magari a tirar fuori anche delle cose dei racconti un po' diversi quest'anno abbiamo addirittura deciso di fare 3-4 pezzi in acustico quindi diventa una sorta un micro happening fantastico con tutta la gente che viene lì a sentire le nostre minchiate al microfono un po' di musica e poi facciamo foto e autografi che insomma è divertente perché comunque rivedi persone che non vedi da un po' di tempo e conosci persone nuove è molto figo si cucca tantissimo si cucca tantissimo reggiseni anche lì no se in libreria cucchiamo libri perché ce li mettiamo in tasca dentro i pantaloni dentro i pantaloni stanno arrivando a Bologna stiamo arrivando Mondadori sei nostra ragazzi ruba ruba raffa raffa io vi ringrazio per questa chiacchiera voglio un altro abbraccio adesso fuori onda naturalmente e vi aspettiamo prestissimo ancora con tante belle novità bene grazie buona domenica a tutti ciao grazie a Inegrita